Buongiorno ragazzi, oggi parleremo delle fibre tessili. Prima di tutto guardiamoci intorno. Quanti tipi di abiti indossiamo, ma soprattutto come sono fatti? Le fibre tessili sono la materia prima della catena tessile, che comprende le lavorazioni delle fibre per ottenere i filati, quindi i tessuti e infine i prodotti finiti. Ma facciamo un attimino un passo indietro. Che cos'è l'abbigliamento? Allora, gli indumenti indossati da qualcuno è in generale il modo di vestire, che combina questi ultimi con altri elementi, come ad esempio il trucco, la capigliatura, gli accessori, definendo in generale l'aspetto esteriore di una persona o di un insieme di persone. L'abbigliamento è spesso legato alla cultura di un popolo. Gli esseri umani sono i soli tra i mammiferi che indossano vestiario, ad eccezione poi degli animali domestici che talvolta vengono vestiti dai loro proprietari. Ma vediamo un po' di storia. La necessità di indossare degli abiti o perlomeno di indossare le pelli degli altri animali nasce in tempi preistorici, proprio perché l'uomo primitivo ha la necessità di proteggere il proprio corpo dai pericoli dell'ambiente, come possono essere il freddo, la pioggia, il sole e gli insetti. Quindi già 18.000 anni fa gli uomini utilizzavano le pelli per coprirsi. Dal primo millennio avanti Cristo i tessuti utilizzati variano a seconda del luogo. Per esempio in Cina si utilizza la seta, in India la canapa e il cotone, in Egitto si utilizzerà il lino. In Europa i fenici furono i primi a praticare la tintura dei tessuti. dobbiamo arrivare al medioevo per avere degli abiti che somigliano un po' a quelli che abbiamo noi oggi. La qualità infatti delle vesti aumenta proprio perché cominciano ad utilizzarsi degli strumenti come il ditale, gli aghi di acciaio, le forbici e lame incrociate. Quindi vediamo che si comincia a intravedere quali sono gli effetti dell'utilizzo della tecnologia per la realizzazione di questi abiti. Dal 400 compaiono addirittura merletti, velluti, calze, berretti, tessuti broccati e la produzione aumenta sempre di più in riferimento anche alla crescita economica e tecnologica. Nel 1790 si inventa il telaio Jacquard che permette di aumentare sia la precisione sia la velocità di produzione dei tessuti. Quindi la produzione tessile si meccanicizza rendendo l'industria dell'abbigliamento la più sviluppata di tutto il periodo. I telai che oggi vengono utilizzati somigliano molto per impostazione a questo telaio Jacquard. Arriviamo poi al ventesimo secolo dove sono stati introdotti nuovi prodotti grazie anche alla scoperta di nuove fibre come quelle sintetiche ma anche le fibre artificiali e quindi busti, taier, gonne, jeans, tute da sport. Ritorniamo quindi al processo produttivo e per oggi ci concentriamo semplicemente sulle fibre tessili. Cosa sono le fibre tessili? Non sono altro che prodotti di origine naturale o artificiale ma più avanti lo vedremo, dei quali è possibile ricavare un filato così come espresso in questo disegno. Le fibre tessili si classificano in naturali e chimiche a seconda della loro origine. Le fibre naturali a loro volta possono essere fibre di origine vegetale come cotone, lino e canapa, fibre di origine animale come lana e seta, fibre di origine minerale come l'amianto e la lana di vetro. Le fibre chimiche possono essere artificiali come per esempio il rayon e l'acetato, in questo caso come si formano le fibre artificiali partendo da fibre naturali alle quali poi vengono sottoposte ad un procedimento in laboratorio. E poi abbiamo le fibre sintetiche come poliamidi, acrilico, poliestere, ce ne sono tantissime che hanno un'origine direttamente dalle idrocarburi e quindi dal petrolio. Andiamo a studiare quali sono le fibre naturali vegetali partendo dal cotone. È la fibra tessile più importante ed è costituita dai peli che rivestono i semi contenuti nel frutto della pianta del cotone. Questa pianta è coltivata in una vasta zona del mondo, ovunque diciamo dove è possibile, dove ci sono quelle condizioni di clima caldo temperato o tropicale ma soprattutto anche tanta acqua. Il frutto come vediamo in figura è una capsula che quando giunge a maturazione lascia uscire il bioccolo del cotone. Queste sono immagini di piantagioni di cotone. La fibra del cotone è costituita dal 95 per cento di cellulosa e il valore del cotone è tanto maggiore quanto più lunghe sono le sue fibre che possono arrivare fino a 4 centimetri. Con i peli più lunghi si confezionano i filati mentre con quelli più corti, detti linters, si realizzano il rayon e anche alcuni tipi di carta. Il cotone si utilizza nel campo dell'abbigliamento e dell'arredamento grazie alle sue proprietà di lucentezza, finezza, resistenza. Tra gli impieghi ricordiamo il denim utilizzato per i jeans, il fustagno adatto per gli indumenti di lavoro ma anche la spugna che viene utilizzata per gli asciugamani. La raccolta può essere manuale o meccanica. Il ciclo di lavorazione è abbastanza complesso. Si parte principalmente dalle balle di cotone che vengono via via appiattite, le fibre vengono poi pettinate fino a che da questo ammasso di fibre si ricava il filo. Veniamo al lino. Il lino è la fibra del fusto di una pianta annuale che è alta fino a un metro, con un fiore azzurro bianco ha le foglie molto strette e appuntite. Si può coltivare sia per ottenere le fibre tessili ma anche per ottenere i semi che vengono utilizzati per la produzione dell'olio. Il lino è formato da cellulosa, lignina, grassi e cere, quindi ci sono molte più componenti rispetto a quella del cotone. I filamenti sono formati da fibre lunghe da 2 a 4 cm e i filati si utilizzano per confezionare tessuti fini per la biancheria ma anche per l'abbigliamento e per l'arredamento. Il lino si usa soprattutto per l'abbigliamento estivo perché dà proprio una sensazione di fresco grazie alla sua proprietà di condurre in maniera ottima il calore. I capi di lino assumono un caratteristico aspetto stropicciato. La raccolta anche in questo caso può essere effettuata manualmente oppure attraverso le macchine. Il ciclo di lavorazione prevede una prima fase di raccolta e sgranellatura dove vengono eliminati i semi, una seconda fase di macerazione che avviene spesso in vasche piene d'acqua proprio perché bisogna separare lignina, pectina dalle fibre vere e proprie, l'essiccazione per togliere l'umidità, la stigliatura per eliminare la parte legnosa che poi è rimasta e infine la pettinatura dove vengono separate le fibre lunghe da quelle corte. La canapa invece è la fibra di un fusto di una pianta erbacea annuale che è alta fino a 3-4 metri. I filamenti sono formati da fibre lunghe addirittura fino a 5 centimetri. Rispetto al lino e cotone sono molto più grossolane però sono anche più resistenti. Infatti la canapa è utilizzata per tele, tessuti, abbigliamento, arredamento, tovaglieria, asciugamani eccetera ma anche per realizzare cordani e rete e imbottiture e carta pregiata. Andiamo a vedere adesso quali sono le fibre naturali di origine animale. Cominciamo con la seta. La seta è un filamento tessile che si ricava dai bozzoli di un insetto che viene chiamato baco da seta. Questo filamento è molto resistente. Addirittura il suo carico di rottura è pari a quello di acciaio. È tenace, elastica e molto resistente. Non si piega facilmente e ha un buon potere termico isolante. È utilizzata per biancheria abbigliamento di grande pregio. È molto preziosa la seta come fibra tessile per le camicie, per le vatte per i fular. Il ciclo di lavorazione prevede una prima fase in cui viene allevato il baco da seta, una seconda fase di spelaiatura, macerazione, scopinatura che serve proprio come vediamo in figura a trarre dal bozzolo i fili, una terza fase di trattura, incannaggio e torcitura dove il filo viene rinforzato e poi lavaggio, tintura e tessitura. Per quanto riguarda la lana invece è una fibra che si ottiene dal vello degli ovini. La qualità di questa lana dipende sia dalla razza dell'animale ma anche dal tipo di allevamento, dall'alimentazione, dall'età. Le pecore merinos sono tra le più note e quelle utilizzate appunto per ricavare la lana merinos ma noi in Italia abbiamo anche una razza molto importante che è la gentile di Puglia. Le caratteristiche sono tante, per esempio la finezza attraverso la quale distinguiamo le lani fini, medie e grosse, l'arricciatura che ci dà un indice di quanto questa lana è morbida, leggera e soprattutto con un ottimo potere isolante, tanto che la lana si utilizza moltissimo nell'abbigliamento invernale perché ci aiuta a stare caldi, l'igroscopicità perché la lana assorbe l'umidità e anche una elasticità elevata. Il ciclo di lavorazione parte dalla tosatura quindi rimozione del vello degli animali, poi abbiamo vari trattamenti preliminari come il lavaggio, la carbonizzazione, sbiancatura e cardatura. Successivamente la lana viene filata dopodiché avviene la tessitura. Esistono delle lane speciali che si ricavano da animali speciali come il Kashmir che è una capra dell'Himalaya, Tibet e Mongolia o anche il Moir che è una capra originaria della Turchia che oggi però viene allevata sia negli Stati Uniti che in Sudafrica o più in generale le lane che derivano dai camelidi come vigogna, alpaca e lama. La lana si utilizza sia per realizzare tessuti come tweed, flanella, spigato ma anche per la maglieria, per i tappeti e per i cappelli di feltro. Andiamo all'ultima parte delle fibre naturali, fibre naturali di origine minerale. Cominciamo con l'amianto, sono fibre che si ottengono da un minerale, la svesto. Quali sono le proprietà che sono fibre leggere, resistono al calore e alla fiamma, resistono agli acidi all'usura e a livello di usi principali si usa moltissimo nel settore edile ma anche per realizzare tute ed indumenti antincendio ed eternit. Badate bene però che da diversi anni l'amianto è fuori legge perché le sue polveri possono provocare malattie cancerogene. Quindi pur essendo fuori legge ve ne parlo proprio perché ancora oggi in alcune abitazioni per esempio sono presenti degli elementi della costruzione realizzati in amianto. Quando questi elementi devono essere rimossi è necessario chiamare le ditte specializzate. Infine la lana di vetro che viene ottenuta dalla fusione e filatura di minerali del vetro. Il vetro già l'abbiamo studiato quindi su questo non ci torniamo. Quali sono le caratteristiche che ha una buona tenacità, un ottimo isolamento elettrico e si usa dove? Soprattutto nell'industria delle materie plastiche rinforzate come la vetroresina ma anche per realizzare nastri e tessuti isolanti, filtri e tessuti di protezione contro il calore. Tra le fibre chimiche artificiali studiamo il rayon che deriva dalla cellulosa naturale e abbiamo essenzialmente due tipi. Il rayon acetato che ha la caratteristica di non stropicciarsi. Il rayon cupro ammonio che viene usato per produrre la seta artificiale. Le fibre sintetiche si ottengono dalla polimerizzazione dei monomeri derivati dal petrolio. Per la spiegazione di tutto questo processo vi rimando alla lezione sulle fibre plastiche. Andiamo a vedere. Fibre sintetiche ne abbiamo di tantissimi tipi a partire dalle fibriche poliamidiche come il nylon che viene utilizzato per realizzare le calze ma abbiamo anche fibre acriliche poliestere e gli usi ragazzi veramente sono i più disparati. Quindi perché utilizziamo così tanto le fibre sintetiche? Perché hanno tante caratteristiche positive come la resistenza all'usura, leggerezza, elasticità, resistenza alla luce ma anche indeformabilità, inattaccabilità dalle tarme e dalle muffe e poi è possibile fabbricarne grandi quantità in tempi molto brevi e anche a costi contenuti e possono anche essere colorate con molta facilità. Tuttavia abbiamo delle caratteristiche negative come una scarsissima impermeabilità e quindi traspirazione del corpo e l'accumulo dell'energia elettrostatica sulla pelle che può causare disturbi e allergie alle persone che li indossano. Completiamo con un mini test riassuntivo, cosa sono le fibre tessili, come si classificano e quali sono le fasi per ottenere un abito a partire dalle materie prime. Buon lavoro a tutti!